E durante la processione offertoriale, oltre ai doni per il sacrificio caristico, il pane e il vino, vengono presentati al Papa altri doni. Per la postulazione di Pio IX, una croce pettorale in oro e rubini. Per quella di Giovanni XXIII, una casula e due dalmatiche di colore verde. Per la postulazione di Tommaso Reggio, due patene per concelebranti in argento dorato. Per quella di Guillaume Joseph Chaminade, un reliquiario in metallo dorato del Nuovo Beato, calice con smalti e un'icona in legno proveniente dall'Argentina. E infine per la postulazione di Columba Marmion, un organo per la cappella Redemptoris Mater, che è l'ultima cappella inaugurata in Vaticano, chiamata la Sistina del 2000. E opere di Columba Marmion per i seminari poveri. Dopo quello che ha detto Pio IX, messori, i critici possono stare più tranquilli, sono più sereni, secondo lei. Dopo quello che ha detto Papa Giovanni Paolo II su Pio IX. Il Papa ha ricordato la grande legge della Chiesa. La Chiesa cammina nella storia, ma tende verso l'eternità. Non capiscono nulla, o poco o nulla, coloro che volessero giudicare la Chiesa e i suoi uomini, i suoi beati, i suoi santi, attraverso categorie come quelle politiche, come quelle sociologiche, che non sono le categorie proprie, per giudicare una realtà che è essenzialmente religiosa. Grazie. Grazie. Grazie.